Siete riusciti a fargli dire una frase compiuta, qualcosa? Parliamo con lui da ore. Probabilmente si è arreso. Mi avete detto tutto quello che avete trovato a casa e in ufficio? No, non tutto. Potrebbe essere qualunque cosa. Per esempio, che vuoi che ci mettiamo a tirare e a indovinare? Magari House si sbaglia. Basta che non significhi la fine. Ha detto cartello anche quando Chase gli ha fatto la risonanza, prima che lo spaventassimo. Ah sì? L'hai scritto tu. Cioè parla solo quando fa risonanze e punture lombari. Secondo te ci riesce solo con un ago nella schiena o... O quando la moglie non è presente. Più sei innamorato, più hai da nascondere. Sei cinica. Non è vero. No, era solo una battuta. È cresciuta la bambina. Come si fa a strappare una donna dal capezzale del marito morente? Mi hai svegliato solo per mentire alla moglie di un paziente? È semplicemente un problema burocratico. Niente di che. Senti un po'. Se la tua intenzione è farmi ingoiare le stesse follie di House, perché dovrei preferirti ad House? Ecco, vuoi un caffè? Il tuo volo è stato chiamato da venti minuti. No, non è vero.